Assessore Di Pietro, è partito il taglio degli alberi malati nella città di Pescara, ci sono polemiche, ieri in via Rigopiano c'è stata una manifestazione degli ambientalisti, voi però andate avanti con il cronoprogramma stabilito. Sì, so che ci sono state dei tafferugli fra gli ambientalisti e i residenti della zona che, vivendo con il pericolo a pochi metri dalle proprie case, si rendono conto di quanto sia necessario questo intervento. Un intervento che sia chiaro e sofferto per tutti, perché a noi non è che piaccia tagliare gli alberi ovviamente, ma di fronte ad una relazione che parla di pubblica incolumità non abbiamo altra scelta. Ricordo infatti che questa relazione fu commissionata dal comune di Pescara a un esperto, un vero esperto, non un occasionale, una persona che ha tutte le carte in regola per fare questo lavoro. Nel marzo 2015, a seguito del crollo di un enorme pino, che forse oggi qualcuno definirebbe storico e monumentale, in via Regina Margherita. Questo pino crollo su una macchina che solo fortunatamente era vuota e da lì si decise di verificare 1240 alberi ritenuti dai nostri uffici, diciamo così, pericolosi, perché proprio sono a rischio crollo. Il dottor Rabbottini ha fatto questa analisi, ce l'ha riconsegnata e in questa analisi si evince che purtroppo per 120 alberi non c'è più nulla da fare. L'unica soluzione è tagliare, mentre per 400 alberi che sono malmessi è possibile attraverso delle potature agronomiche, diciamo, risistemare la situazione. E così stiamo agendo. Ricordo che per ogni albero tagliato ne saranno ripiantati due. Abbiamo fatto gli incontri con i cittadini, abbiamo parlato con il Corpo Forestale dello Stato, con la sovrintendenza, con le associazioni ambientaliste che purtroppo non hanno e non vogliono capire le nostre ragioni, ma noi pensiamo di essere nel giusto. Crediamo che la vita umana abbia un valore inestimabile e non possiamo rischiare e giocare con un albero che può essere malato e può davvero crollare da un momento all'altro.